Carte d'identità valide per l'espatrio, tessere sanitarie e buste paga, tutte rigorosamente false, create secondo gli investigatori per compiere reati ed uscirne puliti. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia Stradale di Arezzo. I poliziotti nel corso di un controllo hanno fermato nel tratto a retino della 1-1 Dacia Duster all'interno della quale viaggiavano due uomini, un 46enne ed un 37enne, entrambi residenti nel napoletano con alcuni precedenti alle spalle. A tradire due, il nervosismo mostrato durante il controllo. L'eccessiva preoccupazione ha infatti insospettito gli agenti che hanno deciso di estendere il controllo a tutta la vettura. È così saltato fuori dal vano dei fusibili e sotto il cruscotto un involucro contenente documenti falsi, tutti con impresse le fotografie dei due fermati ma con nominativi fittizi. Un controllo più accurato in caserma poi, utilizzando la lampada Vood, ha fatto risaltare subito la mancanza di alcuni elementi di sicurezza che i documenti avrebbero dovuto presentare. Per i due sono scattate le manette, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Arezzo in attesa del giudizio.